Salve, salve da Marco Calabro per conto di Cellocosto.it, ci troviamo oggi ad Atalanta in Georgia negli Stati Uniti e stiamo parlando della Delta Airlines, la Delta Airlines è una compagnia proprio di qua, della città di Atalanta, è la più grossa compagnia mondiale se escludiamo dei colossi di tipo statale come l'aeroflot russa, è una compagnia che ha più di 500 aeroplani, è una compagnia che prevalentemente lavora con aeroplani della Boeing e da sempre è stato un leader mondiale nel settore dell'aviazione. Grazie per ascoltare i video di Cellocosto.it e a risentirci al prossimo video.